Hai mai un racconto o qualcosa ai tuoi genitori? Mai, Andrea! Se avessi il potere di cambiare le cose nel mondo, cosa faresti con la prima cosa? Dei porterei un po' di lavoro al sud che non c'è. Se trovassi per perdere un portofoglio con dei soldi e dei documenti, che cosa vuoi fare? Da persone educate il quale sono loro si durisco. Ma perché le cose belle si chiamano fazzate e le cose brutte si chiamano fazzate? Eh, e non te lo so dire, Andrea! Saluta alcuni tuoi follower che iniziano con la lettera G. Ciao Giovanni, ciao Gennaro e ciao a tutti!